Meio schiaccia a terra per Sims, gran palla dopo aver attirato il raddoppio. Per il playmaker della portitudo parte Pic in fondo, ha cresciuto al ferro, falla! 15 perché si pensa di essere spank, però può anche succedere! Grande alzata di Vene! C'è che subito prova una conclusione. Meio per Vene ci pensa per un attimo a prendere una tripla, poi va dentro a Simos con un gran passaggio. Secondo schiaccione della partita. Ora Veneazza per Simos e c'è anche un po' di showtime. Prova ad attaccare Peric, lo scarico per Simos. Fa la rimessa proprio per Simos che tiene la posizione. Falla alzata di Meio per Jeremy Simos! Arcobaleno al paladozza. Meio che arma la mano di Vene, sbaglia la tripla il giocatore Estone. non sbaglia invece di parla di capire. Pic la dà dentro a Simos che va in tiro d'aria a Vene. Fin troppo facile questa! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.